L'associazione Don Paolo Tunucci Apito organizza uno spettacolo che andrà in scena all'ex Chiesa di San Francesco. Quando e di cosa si tratta? Innanzitutto la Chiesa di San Francesco è il 7 agosto alle ore 21. Prende lo spunto dalla mia nuova traduzione dei poemi di Ossian, un libro che è rimasto sotto le polveri per due secoli e mezzo, tradotto una volta solo in italiano nel Settecento e che invece meritava di essere riportato alla luce. La mia traduzione vuole rendere omaggio a un'opera e a un autore che dopo aver influenzato tutta la cultura preromantica e romantica europea, autori come Goethe, Foscolo, Leopardi, è stato lasciato cadere nel dimenticatoio, nonostante che ci siano nei poemi dei brani delle perle di bellezza. Porteremo in scena questo straordinario testo riproposto per la prima volta dopo due secoli di Poemi di Ossian, un testo straordinario che non conoscevo ma insieme a Fabrizio Bartolucci e io saremo le voci narranti, accompagnati dagli attori del Centro Linguaggi e da due danzatrici di Chiara Danza e da un'altra danzatrice che viene da fuori, Laura Miotti. Le danzatrici di Chiara Danza sono Emma Borgoggelli e Elisa Muratori. Un testo bello in una cornice straordinaria che è appunto la chiesa di San Francesco, ex chiesa di San Francesco. L'ingresso sarà libero ad offerta? Allora l'ingresso è libero ad offerta, i posti sono limitati, è importante che le persone sappiano che a un certo punto quando arriveremo a 150 persone non potremo più fare entrare, quindi sbrigatevi, arrivate presto e fate la fila insieme a noi.